Salve ragazzi, buongiorno, ha corretto le verifiche? Sì, sì, le ho corrette. Come sono andate? Eh, ci sono state degli alti e bassi, ecco la prima. Grazie mille, prof, non mi accontento più del 6. Questa è la seconda, dicionda, bravissimo. Grazie, prof, sono bravissimo. Per ultimo quella di Dallari. Dallari, mi hai deluso, guarda un po' te. Ma come ci commento, prof, non me lo merito. Ma dai, Cristiano, non ti preoccupare, tanto lo recuperi il suo 5 e mezzo. Eh, ma mi abbassa la media. Sì, prof, in effetti non sono mezzo, ho studiato molto, ho studiato molto. Ah, quindi, Davide, saresti disposto a dare un tuo voto per il tuo amico Cristiano? Sì, prof, ma stai scherzando. Allora, visto che hai preso nove, dovresti aver studiato tutti i capitoli, dimmi che ha a gusto. Eh, ma l'ultimo capitolo non l'ho spostato bene. Allora, Dallari non se ne fa niente, ti tieni sto 5 mesi, però lo recuperi con un'interrogazione.